Ravenna Ravenna guarda Davide deve provare a pescare questa qua provare a Cefari pure Mari nuova marine l'abbiamo mai visto così grosso Ravenna Ravenna teoria viene fuori il sole muovete faccia la merda teoria viene fuori il sole guarda che bello sento quante state era Davide bellissimo qua bello noi altri pescheremo qua sopra fino ieri hanno preso spigole orate calamari di tutto hanno preso fino ieri vediamo se abbiamo fortuna che noi oggi c'è un po' di freddo ma hanno messo sole tra un po' dunque il vento non c'è vabbè qua ovvio che vengono a pescare con i coreani davide davide ha un sacco di scatole dei coreani qua è una buona per caricare qua adesso vabbè dai adesso passami la roba ti la metti qua sopra che la metto qua basso ma trovo foto tutta due oltre a metà ci metteremo un'ora a scaricare tutto dai 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 scommettiamo 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 a scaricare dai avanti foto cussini si aiuta i fans siamo foto cussini siamo adesso proviamo la pesca con totanare e qualche malattissima in sotto venga c'è un po' di tutto ieri proviamo dai intanto proviamo a scaricare la roba affinché ci accoliamo posso anche fare pipì qua si si certo si può si può anche perchè aiuta a scattare l'acqua bote oh davide questo qua sarà un video per far vedere le barche che passa barack bestia sapete che non avevo mai visto una barca del genere del vivo che è scritto se fa mia fumare insieme alla barchetta lì forse importa benzina boh gasolio roba infiammabile sento quanta figlia che stai insieme alla barca del genere ah questo che sbarco una ah invece da venire con tutti i fingri migrati penso che comunque nel famiglia ho nella casa parza vigliacca oh quanto sarà lunga cento metri eh 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 sì 8 10 14 6 8 10 14 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 ho visto che c'è una barca ma adesso non è fruo bene vigliacca e sfondo il sole Grimaldi line vigliacca guarda cari che barconi ho detto caricare la roba che mi intanto mi guardo il cappuzzo qua galleggiante e fa qualche onda questo vigliacca e fa qualche onda oh guarda com'è che ha già fatto del rio che non ha mai un tocco ma che cami insieme oh guarda qualche onda che arriva Grimaldi line sta qua la cosiddetta anche per la televisione vigliacca vigliacca ma hai visto i miei barchi così longe del vivo ho detto caricare io cago la mia parete dichi dove andiamo adesso adesso andiamo il porto cursini qua è una delle caratteristiche porto cursini dove orate branzini pesci sera e anche di giorno di sera e anche di giorno vabbè dai caricheremo via provo io provo intanto che possiamo caricare giù la roba l'amaro e anche oggi abbiamo preso una cassa tra il compenso il posto molto bello sicuramente ci ritorneremo anche l'altra quella macchina guarda muovate par carità ma perché siamo in una zona cicliabile nemo nemo palia cos'è eolica eolica dai che ti attacco su una se ti dico su una palla ti può girare eolica vedremo parte le strade ma il po' no io non parte le strade se no il km mezzo quasi al km sarà sai che possiamo sotto adesso staccare una palla e mi abbatto in testa tua dai beh 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 Pericolo di caduta a mare Cosa serve questa qua? Porto Corsini, Bigliacca Davide, mi sono riedotto a camminare a Sky, Bigliacca, non mi è tanto da fare passeggiate lunghe chi stia vai qua No, no, chi stia vai di lì non sono buoni qua Spero che cammino meglio sui scappi Non so qua che mi metto dritto No, no, vabbè, più piede a voi Votorte di culo Eh sì, eh? Eh, ma se non va a far culo, non va a far culo, non va a far culo Votorte di culo Lui amaro Arrivo a torte di culo Lui Lui amaro Guarda che la fidanza è in fianco Si, ti vieni Ai miei figli di culo Guarda che stia Guarda che stia Guarda che stia Guarda che stia Sei in carabinieri ora Non va a far culo a piedi nudi, a piedi nata si cammina, a piedi nudi, a piedi nata si cammina qua, 25 25 gradi e 30 gradi di adesso, granicissimo, insomma come è un angolo? è un mega capotto, una capotto come ho visto il pescador che ha preso, però che mi imparà dove andare la prossima volta? la tecnica da usare, l'esca, l'esca che pesca, e qual è l'esca? ahi addio voi, ahi porca madonna, dio caro di sassi, ti ricordi riesco a chissare? i gambaretti, no ma sinceramente se non ha, li ha a farciavargli alle tira, pia ne pensa, perché subito ho visto quelli dentro i gambaretti, dopo abbiamo detto, hai preso qualcosa? le cose si, due o tre che t'ha cagato ne avrà avuto 10 o 15, faccia da culo, ma io volevo rubargli, ma david è una brava persona, non vuole rubare niente, invece di aver rubato anche le sue ciabatte, faccia da culo, faccia da culo vai vai, vai, vediamo se vuoi, la prossima veniamo qua qui a vulva, ciao da Davide, ciao da Andrea che cammina senza scarpe ora che sto qua, che ne ho messo avanti, e voglio mettere il putto sotto e inclinato, dai davvero coglioni, faccia la merda, saccateli su, i funghi, la pava che ha fallito quando che ne ha fatto senso, tu amara grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti